Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per vedere insieme a voi come ho costruito un braccio robotico con Arduino e un'interfaccia grafica touch. Grazie all'interfaccia grafica è possibile non solo muovere i vari giunti in tutte le direzioni possibili, ma anche programmare i movimenti che dovrò compiere a ripetizione. Ma adesso mettetevi comodi e vediamo cosa ci serve per realizzarlo. Prima di tutto, un tubo quadrato di alluminio, un alimentatore abbastanza potente, considerate 2A per ogni motore, sono 5 motori, quelli potenti. Una qualsiasi scheda Arduino, io ho usato un Arduino Uno, un modulo Bluetooth HC05, un solo servomotore SG90, io ho preso quello con gli ingranaggi in metallo, 5 servomotori MG99-6R per i vari giunti, che sono più potenti degli SG90, una piattaforma in legno per la stabilità, una scatola di derivazione per i collegamenti elettrici e... finito. Passiamo a vedere il design e il modello 3D. Grazie a Fusion 360 potete osservare il modello 3D del braccio robotico che ho dovuto disegnare e progettare molto molto prima che iniziasse tutta la fase di costruzione per evitare errori. Ma partendo dall'estremità voglio ripercorrere tutte le scelte progettuali compiute insieme a voi. La pinza. La pinza che posta all'estremità di tutto ha un design non nuovo e che ho già trovato in molte pinze meccaniche su siti come Thingiverse, non da piattaforma per trovare modelli 3D online e che ho riprogettato adattando a seconda di questa esigenza. La pinza si stampa tutta in pochi pezzi ed è possibile assemblarla solo grazie a dei dadi e dei bulloni da 3 mm. Una volta assemblata mi è bastato portare il servomotore alla posizione 0 e tenendo la pinza aperta posizionare il servo al di sotto, quindi stringere tutte le viti del gioco è fatto. La pinza poi l'ha avvitata al polso con 4 viti alla piastra rotante del servomotore dell'angolazione del polso. Quindi passiamo proprio al polso che è costituito da angolazione e rotazione. Per la movimentazione del polso il braccio ha bisogno di due motori, uno per l'angolazione del polso e uno per la rotazione del polso al punto, quindi uno che lo muova soggiù e uno che lo ruota in senso orario e anti-orario. Per la sede del premotore è stato necessario creare una sede nel tubo quadrato di alluminio dalla quale far uscire la parte posteriore del motore. Il motore, come tutti i motori, tranne per la base e la rotazione del polso, è montato con due adattatori che vi lascio in descrizione. Questi due adattatori li ho realizzati sempre in Fusion 360 e con la stampante 3D. È bastato avvitare con quattro bolloni il motore agli adattatori e poi montare gli adattatori lateralmente ai profili di alluminio con una specie di dima per i fori che vi lascio nei file. Oltre a questo è stato necessario praticare un foro di 22 mm di diametro, stessa dimensione interna del profilo di alluminio, per far uscire la piastra del motore che ho avvitato alla pinza con quattro viti. Con il secondo motore, quello della rotazione del polso, è stato molto più complesso. Infatti è stato necessario montare il motore in modo tale che fosse direzionato verso l'esterno e non verso il lato del profilo di alluminio. Per questo motivo ho riprogettato un adattatore che, tra virgolette, abbracciasse solo due lati del quadrato di alluminio, così che lo spazio fra i due lati fosse dedicato ad alloggiare il motore verticalmente. La piastra del secondo motore, quindi quello della rotazione del polso, si va ad avvitare quindi ad un altro adattatore stampato in 3D che abbraccia il profilo di alluminio, quello più all'estremità, che regge gli ultimi due motori all'estremità. Passiamo ora al gomito. Per realizzare il giunto nel gomito ho dovuto inserire nella parte finale del profilo di alluminio il motore con la stessa tecnica dell'angolazione del polso. Ho dovuto collegare la piastra rotante del motore all'altro profilo di alluminio con le quattro viti in dotazione che nel motore, che sì, servirebbero per il montaggio del motore, ma che vanno bene anche per la piastra. Per avvitare la piastra del motore al profilo di alluminio che costituisce l'avambraccio, ho fatto dei fori nella parte vicino al motore e dei fori più grandi nella parte esterna, quelli che vedete in foto, proprio per poter fare entrare fisicamente il cacciavite ed avvitare le viti. Ora passiamo all'altro giunto, quello della spalla. Per collegare la spalla alla base rotante ho preferito inserire il motore nel braccio, non nell'avambraccio, piuttosto che nella base, ma sono scelte. Nella pratica non cambia niente, neppure a livello di bilanciamento e contrappeso. Per montarlo, stessa tecnica, pratico un taglio nella parte posteriore di alluminio per far uscire all'estremità del motore, faccio il foro di uscita della piastra del motore, quella rotante, e successivamente monto il motore con due adattatori stampati in 3D. L'avambraccio è montato alla spalla, che è collegato alla base rotante, con un altro piccolo pezzo di profilo di alluminio, che viene, tra virgolette, abbracciato su tre lati dalla base rotante, in modo che possa rimanere fisso. Come vedete nelle foto, il motore dell'avambraccio, quindi della spalla, è aiutato da una serie di molle, che esercita una forza contraria, dato che senza questo il motore dovrebbe sollevare tutto il braccio da solo, compiendo uno sforzo gigante, oltre che appunto inutile. La base rotante, l'ultimo motore da montare, che sembra quasi uno scioglilingua, è quello che controlla la rotazione dell'intero braccio meccanico sull'asse verticale. È bastato inserire il motore nell'apposita sede disegnata e poi stampata in 3D, della base fissa, e poi ho potuto avvitare la piastra rotante nel motore alla base rotante, che sorregge tutto il braccio. Riguardo alla base fissa e rotante, ho voluto che la base rotante si appoggiasse su quella fissa, su 4 mm di spessore, lasciando un filo d'aria per non fare attrito. Questa scelta progettuale permette alla base rotante di appoggiarsi su 4 mm di spessore alla base fissa, quando il peso propende in quella direzione. Grazie a quel poco d'aria lasciato fra la base rotante e la base fissa, la piastra del motore non torce. Nella base fissa, tra l'altro, è presente un foro che fa passare tutti i fili alla scatola di derivazione in cui alloggia tutta l'elettronica. Ma passiamo alla stampa 3D delle componenti necessarie. Doverete stampare quindi, prendete appunti, un adattatore del motore della rotazione del polso, 6 adattatori per i motori, un aggancio della rotazione del polso lato motore, un aggancio della rotazione del polso, una base fissa, una base rotante, 4 braccetti della pinza, un corpo della pinza, 2 dita della pinza, una ghiera libera della pinza, una ghiera motore della pinza, un tappo ferrato e 4 trappi pieni. Ma non vi preoccupate perché vi lascio tutti i modelli in descrizione, con il numero di volte in cui lo dovete stampare, è tutto bello che pronto. Passiamo ora al circuito elettrico. Finita la costruzione del braccio robotico, è ora di passare ai collegamenti elettrici che richiedono particolare attenzione, soprattutto nel caso dei motori. Ovviamente tutti i positivi e negativi dei motori vanno collegati insieme e solo il segnale deve viaggiare singolarmente ai rispettivi pin di Arduino. Oltre a questo, per la comunicazione seriale tra il dispositivo che monta l'interfaccia grafica, è necessario collegare anche un modulo Bluetooth HC05, che oltre a essere la leader in questo tipo di ambito è anche molto semplice da collegare. Ma vi starete chiedendo, perché Bluetooth? Beh, dato che il dispositivo che monta l'interfaccia grafica si trova a meno di 5 cm dall'Arduino, la cosa migliore da fare sarebbe stata controllare Arduino, sempre in comunicazione seriale, con l'ausilio della porta USB. Infatti, sì, si può controllare anche con la porta USB, in quanto Arduino legge la comunicazione seriale in entrata e non importa se arriva dal Bluetooth o dalla USB, tant'è vero che è controllabile anche da computer. Il problema era che il dispositivo che monta l'interfaccia grafica, in realtà un vecchio dispositivo Android, un vecchio telefonino, ha la porta USB nella parte inferiore e non sono riuscito nemmeno, con un cavo micro USB a 90 gradi, a far rientrare tutto nella scatola di derivazione per tenere tutto bello pulito, clean, ordinato e bello da vedere. Quindi, Bluetooth. Tra la 5 volte negativo dell'Arduino ho aggiunto un condensatore da 2200 microfarad per contrastare un po' gli sbalzi di tensione dovute dal grande assorbimento di corrente dei motori quando effettuano delle manovre contro peso, quando deve sollevare la pinza, cose un po' più pesanti e così via. Ultimo, ma non per importanza, ho aggiunto un pulsante di reset che si collega al GND e al pin reset di Arduino. Ricordo che è fondamentale che tutti i negativi, quindi GND, siano collegati insieme al negativo comune. Il negativo comune è che con il filo del positivo generale, saldato il connettore jack, diciamo, DC, forniranno alimentazione a tutto con una tensione che va da 5V a 7,2V massimi. Come vedete dalla foto, poi ho voluto etichettare ogni singolo filo all'interno della scatola con una scritta che mi indicasse a cosa è collegato il filo sia da una parte che dall'altra, in modo che in futuro, qualora dovessi apportare delle modifiche o effettuare delle reparazioni, non dovrò sforzarmi troppo di ricordare. Perché sì, già mi sono dimenticato tutto. Codice di Arduino, dopo aver collegato tutti i fili e mi raccomando aver controllato tutti i fili, è il momento di scrivere e caricare il codice nella scheda per avviarsi verso la fine del progetto. Ma non vi preoccupate, il codice è già scritto e lo trovate nei due file .ino e .txt che trovate in descrizione sul sito instructables.com. È composto da decine e decine di spunti di altri progetti e che comprendevano la comunicazione seriale, come anche l'uso degli array, come anche l'uso dei servomotori. E per questo io dico grazie, 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 grazie a te, a te, a te, a te, a tutti, a tutta la comunità di Arduino che condivide i propri progetti, perché è così che si cresce. Ho notato che, se copio e incollo il codice nella pagina di Structables, si rallenta di molto, quindi preferisco condividere i file direttamente. Io non posso spiegare tutto il codice in questo video, ma ho lasciato tantissimi commenti all'interno del codice per spiegare a che cosa servono le righe di codice indicate. Ma passiamo al firmware dell'interfaccia grafica, che è la cosa un po' bellina, che è la cosa un po' che dà, è un po' il plus, secondo me. Quello che si nasconde sotto lo schermo, come ho detto prima, quindi nel pannello di controllo, sulla scatola di derivazione, non è altro che un vecchio smartphone che avevo a casa. Qualsiasi dispositivo Android e Touch va bene, in realtà. Per programmare l'interfaccia grafica del braccio robotico ho usato App Inventor dell'MIT, che è un software online tanto semplice quanto funzionale, diviso in due. Una parte in cui costruire l'interfaccia grafica GUI, quindi la Graphical User Interface, e un altro in cui, con uno schema di blocchi, programmare effettivamente l'app. E in fin dei conti, l'app non fa altro che mandare dei codici seriali ad Arduino, ad Arduino tramite Bluetooth, e poi Arduino con il suo codice gestisce tutto. Ovviamente i codici seriali possono essere personalizzati come si vuole, l'importante è che siano l'uno diverso dall'altro. Nei file è possibile trovare i file di installazione Android, quindi i .apk, e se necessitate dei file di App Inventor, dati che Instructables non supporta il tipo di file.ai, e contattatemi all'indirizzo mauriziomiscio.mm, che ho c'ho la gmail.com. Ed è finito! Anche questo video si conclude, vi ringrazio tanto se siete arrivati fino alle fine, spero tanto che vi sia piaciuto come ho costruito questo abbraccio, ma come potete farlo anche voi. Bacioni, abbraccioni, e ci vediamo in un prossimo video. Grazie a tutti!